oggi preparerò delle farfalle integrali con crema al salmone ho già messo nella mia padella in cottura le farfalle integrali con acqua e latte ogni 100 grammi di pasta ho messo 100 ml di acqua e 40 ml di latte se dovessi avere bisogno ancora di liquido aggiungerò un altro po di latte dove a fine cottura aggiungerò la crema al salmone intanto copro di nuovo con il coperchio magic cooker e lascio cuocere il tempo di cottura ho già messo anche il sale per la cottura della pasta sono passati 10 minuti il tempo della cottura della pasta e vado ad inserire la mia crema al salmone e faccio amalgamare il tutto lascio cuocere un altro minutino per insaporire e poi impiatterò ed ecco che la mia pasta integrale alla crema di salmone è pronta ho aggiunto un po di prezzemolo grazie alla prossima video ricetta se questa vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale youtube music e cook e risicire oltre ciao ciao